Guarirà in 40 giorni l'uomo ferito nell'agguato in piazza tedesco al quartiere Paolo VI di Taranto. Il 25enne, ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre le fratture alle gambe e all'avambraccio provocate dai cinque proiettili che lo hanno colpito. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i fatti e fare piena luce su quanto accaduto. Si è trattato di un vero atto intimidatorio che poteva sfociare in tragedia. Nell'androne dello stabile dove abita la vittima, infatti, c'è stata una tempesta di piombo, ben nove i colpi esplosi. Le indagini sono orientate ad appurare il contesto in cui si è sviluppato il grave fatto che potrebbe essere collegato ad un episodio accaduto a metà dello scorso mese di dicembre a Rione Tamburi. All'epoca il 25enne, finito nel Merino, avrebbe denunciato un altro agguato. Intanto la polizia è alla ricerca dell'arma utilizzata in piazza tedesco, un elemento che potrebbe dare impulso decisivo all'attività investigativa.